in questo video vedremo che cos'è la robotica educativa e il kit di costruzione di robot prodotti dalla lego ossia lego guidù 2.0 dedicato alla scuola primaria che andremo a collegare al programma blocchi di scratch per programmare il nostro robottino al fine di fargli fare determinate azioni. I ragazzi imparano meglio quando sono attivamente coinvolti nel costruire qualcosa che ha un significato per loro sia esso un poema un robot un castello di sabbia o un programma per computer. Con i termini robotica educativa si individuano strumenti processi e metodologie basate sulle teorie costruttiviste in cui l'apprendimento nasce da poter costruire un vero e proprio oggetto così come affermava Papert. Questa è la scatola ossia il kit della lego guidù 2.0 all'interno della quale troviamo oltre ai mattoncini da incastrare e assemblare troviamo dei pezzi specifici come motori e i sensori. Tra questi pezzi particolari che troviamo all'interno del kit innanzitutto troviamo il brick che è il cuore del robot che andremo a costruire e all'interno necessita di due pile AA che ovviamente non troveremo all'interno della scatola ed è la parte che permette di collegare il robottino attraverso il bluetooth al nostro computer e quindi fare in modo che la programmazione venga eseguita da robot che andiamo a costruire. Nella parte superiore si trova un piccolo pulsante che deve essere il cliccato per associarsi al nostro computer. Nella parte posteriore troviamo le due porte che ci permettono di attaccare i sensori e i motori. poi abbiamo il motore che può funzionare in senso orario e anti orario con il cavetto da inserire e attaccare al brick. Ovviamente questi sono i pezzi da assemblare. poi abbiamo il sensore che viene definito motion che permette al robot di percepire quando la distanza da un oggetto viene modificata e infine abbiamo il tilt sensor che percepisce la differenza di inclinazione del robot. Scratch 3 può interagire interfacciarsi con Lego Guido quindi una volta che entriamo nel programma blocchi di programmazione di Scratch 3 andiamo su estensioni e troviamo appunto l'estensione della Lego Education Guido 2.0 come possiamo notare sulla schermata del pc compare questo simbolo che indica che ancora non abbiamo collegato il dispositivo di quindi Lego Guido 2.0 a Scratch 3 quindi cliccando sopra ecco che compare questa finestra con inizio ricerca del bluetooth ma prima di fare questo andando in aiuto dobbiamo installare Scratch Link una volta che abbiamo installato Scratch Link possiamo iniziare la ricerca cliccando sul tasto posto sopra il nostro dispositivo affinché possa essere collegato ed ecco che la connessione è riuscita quindi possiamo tornare all'editor e il nostro simbolo d'arancione con il punto esclamativo si è trasformato in verde quindi adesso possiamo programmare Lego Guido 2.0 direttamente con Scratch una volta che abbiamo terminato l'assemblaggio del nostro robottino lo possiamo programmare attraverso il programma a blocchi di Scratch 3 a scottotitoli a scottotitoli a scottotitoli Grazie a tutti.